La Polizia di Stato di Caltanissetta, nel corso della consueta attività di prevenzione e repressione dei reati nel territorio della provincia nissena, ha tratto in arresto un ragazzo di 20 anni e denunciato all'autorità giudiziaria 18 persone, eseguito 25 perquisizioni e sequestrati Ashish e Marihuana. Il 20enne è stato arrestato per lesioni personali e minaccia. Un 38enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tre persone, una 23enne e due ventenni, sono state denunciate per furto, altre due persone per guida sotto l'influenza di alcol, tre persone per minaccia. Un 19enne è stato denunciato perché è in possesso di oggetti atti ad offendere, un 46enne per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, un 40enne per invasione di terreni, un 49enne e un 53enne per evasione dagli arresti domiciliari e un 52enne per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Sono invece tre le persone trovate in possesso di Ashish e Marihuana per uso personale, segnalate alla Prefettura. Inoltre, nel corso dell'attività di polizia giudiziaria, sono state eseguite 25 perquisizioni personali e sequestrati Ashish e Marihuana.